Al parco di sorgimento di Palatico si è alzato il sipario sulla stagione 2016-17 del Palatico 2009 dove è stata presentata una rosa composta da ben unici nuovi giocatori e principalmente di esperienza Quest'anno la mia parte a stagione con Palatico abbiamo cambiato parecchio sono arrivati 11 ragazzi nuovi non per fare rivoluzioni o pensare di fare chissà le cose comunque secondo me è arrivato il momento di declino sportivo e abbiamo cercato di puntare sui ragazzi un po' più esperti dunque abbiamo dato due tre ragazzi giovani in prestito a categorie importanti come Bellini, Ersin, Sadavi e Salvese in eccellenza e abbiamo puntato su qualche ragazzo più maturo, sono arrivati 11 ragazzi e quasi tutti d'esperienza La formazione di Mister Sciroli inizierà il 10 agosto per arrivare all'obiettivo finale che può bene andare oltre all'ottavo posto conquistato l'anno scorso Allora dopo tre anni in seconda categoria sinceramente puntiamo a migliorarci Sarebbe bello arrivare zona playoff Io credo che si possa fare però la vedo un po' dura perché ci sono delle belle società la seconda categoria del nostro giro del Bresciano è molto guerrita tante squadre forti sarà dura però noi ci vogliamo provare sinceramente Grazie 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 Grazie